Siccome in questo momento qui dare delle spiegazioni serve a niente, bisogna solo cercare di vincere, in questo momento ci mancano i risultati. Diciamo che in Champions siamo in ritardo, però bisogna vedere anche un po' il positivo, perché altrimenti uno prende e si butta di sotto al grattacielo. E questo non credo che sia giusto. Abbiamo fatto un campionato, è vero che siamo in ritardo i quattro punti, però credo che ci sono anche delle cose che vanno oltre quello che facciamo in campo. In Champions abbiamo perso col Benfica, però in questo momento si vede tutto negativo, ma noi bisogna intanto cercare di finire bene domani, poi dopo la sosta recupereremo tre o quattro giocatori e poi affronteremo il secondo miniciclo, cercando magari di creare i presupposti per andare a Lisbona a giocarsi una finale.